Ciao a tutti e benvenuti. In questo breve video rispondo a una domanda di Silvia che saluto, ciao Silvia, la quale mi ha fatto delle domande in merito al palato molle. Cercherò di dare delle indicazioni e rispondere alla tua domanda sperando di darti delle informazioni che possano tornarti utili. A breve poi pubblicherò un video con delle slide estraendolo dal percorso che sto portando avanti con gli insegnanti di canto in cui si parla anche appunto di questo famoso palato molle. Innanzitutto Silvia e chi mi sta seguendo mostro questa immagine, è al contrario, vediamo se rischio a farvela vedere bene perché ve la mostro e te la mostro per capire innanzitutto dov'è questo famoso palato molle. Tante persone purtroppo hanno l'idea che il palato molle sia solo la parte terminale dove c'è l'ugula, dove ci sono i pilastri tonsillari, non è proprio così. Andiamo a vedere. Questo è diciamo la nostra testa, il nostro profilo. Questi sono i denti, questo è il palato duro, la parte ossea del palato che vedete arriva anche un pochino indietro e questo è il palato molle. Come vedete non è soltanto la parte terminale ma c'è una parte che va verso anche il centro. Questo è importante quindi definiamo subito e andiamo a capire dov'è questo famoso palato molle. Silvia ti suggerisco e a chi mi sta seguendo con un dito di farlo scorrere dai denti indietro verso la parte posteriore sentirete il palato duro, la parte ossea, poi a un certo punto sentirete che questa parte ossea finisce e inizia il palato molle. Sentitelo, arrivate se riuscite fino all'ugula senza provocarvi chiaramente il vomito, però sentite in particolar modo, vi suggerisco di sentire questo punto a metà tra il palato molle e il palato duro, proprio dove finisce il palato duro e inizia il palato molle. Perché vi suggerisco questo? Io lo definisco simpaticamente un punto speciale, a volte lo abbiamo chiamato durante gli incontri, punto magico, punto di alzata. Perché? Perché quando si parla di alzare il palato molle non si intende i pilastri tonsillari e la parte posteriore tirarla su in questo modo, come in uno sbadiglio forzato o molto molto in alto meccanicamente soltanto la parte posteriore finale del palato, altrimenti il risultato appunto è questo. E si rischia di inchiodare il palato in questa posizione che è innaturale e non va bene. Questa è una cosa che va chiarita assolutamente. Quindi per capire effettivamente come si intende classicamente nella didattica alzare il palato, vi consiglio di concentrarvi esattamente su quel punto che è quasi verso la parte centrale del vostro palato, dove finisce il palato duro e inizia il palato molle. Pensate che questo punto lo tirate su in questo modo di elevare questa parte centrale, centrale, centro posteriore diciamo del palato, dove proprio inizia il palato molle, non la parte posteriore. Automaticamente il palato poi anche nella parte terminale più posteriore si eleva morbidamente, ma anche il palato sentirete il macellare proprio che si alza. Quindi si forma questa sorta di cavità orale a forma di cupola. A uovo parla la didattica classica, ovvero pensare nel centro, mi raccomando, del palato di avere un uovo. Quindi qui nel centro si parla di avere un uovo, non collocato posteriormente ma nella parte centrale, in modo tale che si forma una sorta di conchetta nel palato che da piatto si fa questo. Quindi sintetizzando Silvia che mi sta seguendo, per percepire questo alzare il palato molle, sentite prima di tutto dov'è questo punto in cui inizia il palato molle, quel punto dovete cercare di innalzarlo morbidamente. Le strategie poi sono appunto nella didattica tante come quelle di pensare allo sbadiglio, all'inizio dello sbadiglio, alla fase che precede lo sbadiglio. Perché? Perché rilassa tutto il vocal tract, la laringe, i muscoli sotto al collo, la laringe stessa si abbassa lievemente, si adagia morbidamente, non viene tenuta giù a forza come in uno sbadiglio forzato. Quindi è questo. Se voi pensate a questo punto che avete sentito con il dito di tirarlo su mentre mimate questa sorta di inizio di sbadiglio in cui si rilassa tutta la muscolatura, uno sbadiglio, io ripeto, però pensato sempre in alto in avanti come se facesse una voce assonnata. Questo gesto di voce assonnata oppure di far uscire fiato caldo, di alitare, appannare un vetro. Allora sentirete questa parte centrale, diciamo a livello immaginativo, soprattutto per darvi un punto di riferimento, del palato molle che si alza. Quindi pensate il palato molle che si alza da questo punto per essere più specifici possibili. E vediamo, vi faccio vedere per chiarire al meglio. Quindi il punto dove inizia il palato molle finisce il palato duro. Sentitelo con il dito, pensate questo punto di tirarlo su, di elevarlo morbidamente, come in un inizio di sbadiglio o in una sorta di alitare, come dicevo, appannare un vetro. Sentirete appunto che tutto il palato, ripeto, tutto il palato posteriore, centrale e anteriore fa questo movimento. Si inalza come per creare una cupola e va in alto e in avanti. Anche questo fa, va in avanti e in alto. Quindi questo. Sintetizzando, Silvia, mi raccomando, palato molle non si intende la parte posteriore dietro. Questo, di alzare questa parte in modo meccanico, come in uno sbadiglio forzato, che magari pensando che poi la voce va su dritta o a tubo indietro, perché è innaturale. Non si intende alzare il palato molle rigidamente in questo modo, ma si intende elevarlo dolcemente. Pensare alla parte centro, posteriore, centrale, quasi verso la parte posteriore, appunto come ti ho dato, come indicazione del palato, che si eleva dolcemente. Pensare anche a questa dolce sorpresa. Sentire questo stretching del palato, appunto, che si inalza localizzandolo a questo famoso puntino di cui appunto ti ho dato indicazione o che ho dato indicazione per chi mi sta seguendo. Va bene, spero questo video possa essere utile a qualcuno, quindi palato molle non si intende ampliare dietro il faringe, cercare spazio dietro, ma elevare nella parte centro, posteriore del palato e pensare poi a uno stretching, lo ripeto, di tutto il palato in alto e in avanti. In questo modo. Va bene, non mi dilungo oltre. Poi appena possibile pubblicherò questo video con le slide tratte appunto dal corso che è inattivo e spero vi saranno utili queste immagini per chiarire al meglio quanto detto in questo video. Ti mando un saluto Silvia, mando un saluto a chi mi sta seguendo e a presto. Ciao!